Che fa Angel Fon? Che fa Angel Fon? Secondo te? Il parrucchiere! Mi rovina lo sponsor? Lui ha capito Fon, quello dei capelli. Angel Fon, che fa? Aggiusta i deletto! Va bene, era il nostro sponsor, l'hai fatto benissimo. L'hai capito la parrucca. Sono i capelli miei. Indossa questa, perché tanti degli artisti sono trasformisti. Adesso va molto di moda, ecco, vedo un gioco della ragazza. Si trasforma in una Wings, dai, vai, 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 vai. Voglio provare io, scusa, perché ho la libide nel capello lungo. Grazie a tutti.